salve a tutti oggi vedremo il nono turno tra davide gemma e carmelo sciuto l'apertura è la numero 115 23 19 9 13 e 19 15 con questo cambio qui non abbiamo la solita 7 12 il nero fa 10 14 rientrando in un'altra partita il bianco fa 27 22 qui il nero fa un sacrificio per attaccare il pezzo il bianco glielo ritorna il bianco si mette al sicuro con 13 9 5 10 per il nero il bianco da il cambio mettendo un pezzo verso il centro il nero fa 3 6 il bianco 26 21 entrambi giocano delle mosse non troppo comuni infatti lo scopo è quello di mettere in difficoltà l'avversario entrambi qui vogliono vincere è questo che si capisce dalla partita 10 13 da parte del nero il bianco raggiunge il suo scopo che voleva andare verso questa posizione 13 17 il bianco fa 21 18 e qui il nero rischia tutto con 17 21 rischia perché adesso il bianco c'ha 29 25 che effettua e qui questo pezzo non si può salvare anzi il nero può salvarlo con uno stratagemma però diciamo che ne vada la sua posizione infatti si metterà un po peggio da questa posizione il nero doveva giocare 12 16 che era la migliore comunque adesso il nero avanza con 15 19 vuole portare il pezzo più vicino possibile 18 13 per il bianco vuole catturare il pezzo adesso il nero fa 6 10 con questo specie di tiro ovviamente il bianco può catturare con la 25 lo fa quindi questo è come se fosse un cambio normale e poi il bianco c'ha 30 26 bloccando la 19 e la 17 che non possono andare alla damatura in questo momento il bianco nonostante la base un po' scoperta a vantaggio qui il nero decide di andare all in con 17 21 e poi 19 22 andando a fare dama però questo è un sacrificio sbagliato infatti qui bianco a 14 11 che controlla la 2 e la 4 e questo sarà un trampolino di lancio per gli altri pezzi il nero per mantenere la partita ancora diciamo in vantaggio e bianco ma ancora aperta doveva giocare 12 15 comunque ancora non è detto nulla qui entrambi vanno a dama infatti il sacrificio è sbagliato appunto perché serve di solito a fare d'amare prima e con una damatura anticipata si attaccano i pezzi e si può vincere la partita o si può anche pareggiare mettendo in difficoltà l'avversario però in questo caso come vediamo il bianco pure ha dama ed ha pure un pezzo in più qui si fa 23 19 per il nero 3 6 per il bianco che minaccia un tiro 12 15 il nero comincia a portare i suoi pezzi avanti qui viene fatta 6 10 dal bianco e qui il nero si inventa un altro sacrificio questo purtroppo è un altro sacrificio un po sbagliato perché gioca 1 5 attaccando il pezzo cercando di liberare la posizione per questo o anche per la 8 cercando di avere una dama in più il piano del nero è prendere questo pezzo bloccare questi due e fare una organizzare una pari sotto pezzo però il bianco ha 11 6 e poi 9 5 liberando la posizione per la 5 e poi portando con calma la 17 viene fatta 14 19 per il nero 5 2 11 14 2 6 e qua 15 20 il bianco qua furbamente fa 1 5 qua non si può attaccare altrimenti dopo l'attacco ci sarebbe 20 23 tiro qui il nero riprende quota perché una dama contro una dama con i pezzi liberi poi il nero cercherà di bloccare uno di questi tre pezzi per poi portarsi in un finale pari in un finale appunto con un pezzo bloccato comunque il bianco non ci casca gioca 1 5 qua adesso il nero vuole portare la 20 verso la dama mature gioca 14 18 5 10 18 22 crea una specie di ponte però il bianco glielo impedisce con 6 11 qui infatti non si può fare 20 23 perché ci sarebbe questa qui il nero non scappa da nessuna parte se fa questa perde il pezzo se fa pezza si libera però perde il pezzo comunque quindi non può farla gioca 26 22 qui il bianco fa 10 13 minaccia il cambio il nero si sposta e il bianco vuole questa posizione per bloccare in qualche modo la 20 qua viene fatta nero 20 24 il bianco fa 13 18 26 30 18 22 il bianco vuole proporre questo cambio per il nero questo qui però come vediamo sarebbe svantaggioso il bianco blocca due pezzi c'ha la 28 che può andare se il nero lascia la 17 la 17 va insomma quindi non è un cambio molto buono quindi nero fa 8 12 17 13 per il bianco che vuole finalmente andare 12 16 c'è anche da dire ragazzi che il nero da qui ha fatto questa 20 24 perché non voleva che il bianco facesse appunto un cambio portasse un pezzo su quindi questa 20 24 serviva proprio a questo poi vabbè 13 18 30 26 18 22 come abbiamo visto prima che non si poteva attaccare e 12 16 13 9 per il bianco 47 qui viene fatta questa per poter portare oscillare con la dama nera in casella 11 15 infatti viene fatta 95 15 11 14 18 il bianco deve scappare 11 15 5 2 piano piano il bianco come vediamo a 3 dame il nero vuole fare qualcosa per portare almeno un altro pezzo a dama o dare un cambio vantaggioso e comunque questa è la partita il nero a questo scopo mentre il bianco sta vincendo e deve soltanto cercare di stare attento qui viene fatta nero 16 20 molto rischiosa 18 14 per il bianco 11 15 per il nero non l'ho capita benissimo però qui viene fatta 14 19 per il bianco qua 7 12 per il nero e il bianco attacca ora qui il nero aveva una possibilità diciamo non non tanto buona perché tanto perde lo stesso però volendo poteva fare 11 7 poi si prendeva una dama si giocava a questo finale ovviamente il bianco qui sta vincendo deve soltanto portare un solo pezzo verso la damatura ovviamente forse prima è meglio fare la 2 5 cercando di unire le due dame comunque il nero poteva giocassela così però aveva come come abbiamo visto due pezzi in meno decide di non farlo e fa 12 16 qui il bianco tranquillamente muove 22 19 e il nero probabilmente sotto pressione gioca 30 26 e qui il bianco ha il tiro ovviamente il nero da questa posizione da qui si arrende ebbene anche per questo video è tutto io vi ringrazio come sempre per le vostre visualizzazioni per le nuove iscrizioni per i vostri fantastici commenti e noi ci vediamo alla prossima